C'è tantissimo da dire, tante notizie da raccontare, come vi dicevo prosegue un po' il discorso sull'economia che è un termine chiaramente molto vago, siamo partiti da numeri molto ampi rispetto alla situazione economica in Europa siamo arrivati a ragionare un po' su alcuni indicatori sullo stato della salute economica delle varie fasce di popolazione in Italia e arriviamo adesso ad un altro concetto, abbiamo parlato di povertà, adesso lo specifichiamo ulteriormente andiamo a ragionare di povertà alimentare, lo facciamo grazie ad Action Aid Italia che ha realizzato un report intitolato Frammenti da ricomporre, allora raggiungiamo il responsabile del programma per la povertà alimentare per Action Aid Italia Roberto Sensi, ciao, benvenuto su Play Ciao, buongiorno, grazie Allora, come dicevo, ci sono tanti i modi evidentemente per ragionare di povertà in Italia tanti gli elementi da analizzare, forse così tanti che per renderli tutti in un unico calderone rischia di farci sfuggire qualcosa quindi parliamo proprio di povertà alimentare partirei prima di ragionare del rapporto in sé insomma se ci puoi spiegare esattamente che cosa si intenda per povertà alimentare immagino che sia intuitivo ma insomma forse stabilire un po' qualche criterio specifico è quello che aiuta anche voi per realizzare un rapporto come questo Sì, allora, innanzitutto come dicevi, la povertà in generale è un concetto multidimensionale ovvero sono tanti i tipi di povertà così anche la povertà alimentare è multidimensionale e qui viene in forza un po' come dire il rischio di, come tu dicevi, di pensare un fenomeno piuttosto in modo intuitivo perché l'esperienza col cibo è quotidiana per tutti noi quindi è facile pensare che cosa possa essere non accedere a un cibo adeguato però in realtà questa volta crea dei cortocircuiti secondo i quali poi siccome è così immediato il concetto che ci appare così immediato che poi non lo scaviamo, non lo indaghiamo allora anche la povertà alimentare è multidimensionale quindi non vuol dire soltanto non avere abbastanza cibo, accesso a un cibo sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo sia in termini di adeguatezza nutrizionale ma è un concetto che coinvolge anche la sfera intangibile della nostra esistenza e anche su questo però non è difficile comprenderlo nel senso che quanto è importante il cibo nelle nostre relazioni sociali pensiamo alla tazzina del caffè la tazzina del caffè ha un valore nutrizionale irrisorio ma quanto è importante nelle nostre relazioni all'aperitivo, a uscire con gli amici però c'è anche una dimensione psicologica, emotiva e quindi è un'esperienza diciamo complessiva per quello noi poi quando parliamo di qual è l'obiettivo di contrastare la povertà alimentare noi diciamo parliamo di benessere alimentare appunto concependo un concetto che vale per tutti prima di tutto e a 360 quadri con l'esperienza individuale e collettiva del cibo sì questo aspetto sociale effettivamente emerge anche se vogliamo guardare nei modi di dire come viene descritto chi porta avanti il reddito di una famiglia, di una casa e chi porta il pane sulla tavola quindi è il primo elemento qual è il ruolo che può avere una persona produttiva diciamo così in termini molto grezzi e chi porta da mangiare sostanzialmente anche altro chiaramente ma quello è il primo elemento che sottolineiamo andiamo quindi a ragionare sui risultati di questo rapporto che ha un titolo molto particolare perché frammenti da ricomporre? noi abbiamo fatto un'analisi questa è la quarta edizione del rapporto nei due precedenti ci siamo focalizzati su chi è più colpito abbiamo analizzato gli adolescenti e gli adulti quest'anno abbiamo deciso di fare una sorta di riflessione su quelle che a nostro avviso sono le tre colonne portanti di una politica di contrasto alla povertà alimentare ovvero la sua misurazione le politiche di contrasto e gli approcci e abbiamo deciso di usare frammenti da ricomporre come titolo proprio perché quello che viene fuori è un quadro molto frammentato noi nel testo diciamo è come uno specchio rotto alcuni pezzi si possono incollare altri vuoti invece che sono diciamo gli ambiti dove la politica o dove le risposte non ci sono vanno invece pensate, innovate ad esempio degli approcci ad esempio nella misurazione i dati che noi mettiamo a disposizione sono dati che partono dall'esistente cioè da quello che le statistiche ufficiali misurano come povertà alimentare ma non è tutta la povertà alimentare come ci siamo detti così come le politiche ci sono politiche, ci sono interventi questi sono molto frammentati soprattutto sono sempre decisi un po' sull'onda dell'emergenza però manca una ricomposizione e in questa ricomposizione capire cosa effettivamente non c'è e cosa va costruito ecco da qui un po' il senso di questo titolo e visto che abbiamo citato la politica è inevitabile andare a citare alcune frasi piuttosto inquietanti che sono state pronunciate pronunciate da qualche tempo fa quando ad esempio si diceva che nella fascia più povera della popolazione è quella che mangia meglio perché si rivolge al mercato invece che al supermercato è qualcosa che insomma abbiamo già visto smentita più e più volte e insomma come che cosa emerge in questo senso del vostro rapporto del vostro lavoro di analisi è così? Allora emerge un dato molto interessante che non ci aspettavamo abbiamo fatto questo composto questo indicatore di deprivazione alimentare materiale e sociale la chiamiamo deprivazione alimentare perché l'ISTAT la misura come deprivazione alimentare non come povertà alimentare ed è un indicatore economico composto da due variabili la prima è non potersi permettere un pasto di carne e pesce equivalente a vegetariano lasciando perdere l'equivalente vegetariano sostanzialmente ogni due giorni vuol dire che tu puoi mangiare un pasto completo anche proteico da carne e pesce o pollo almeno due volte almeno ogni due giorni l'altro indicatore è sociale ti può permettere di uscire a pranzo cena fuori con parenti e amici abbiamo come dire aggregato quei due indicatori è venuto fuori una stima di circa 6 milioni scusate di circa 6 milioni di persone che sono in condizioni di deprivazione alimentare materiale o sociale ovvero il 12% della popolazione adulta la cosa interessante è venuto fuori che di questi 6 milioni il 60% non è considerato povero né a rischio di povertà dalle statistiche ufficiali questo ovviamente cosa vuol dire questo? vuol dire che hanno un reddito che non è sotto la soglia della povertà assoluta e né sotto la soglia della povertà relativa che cosa vuol dire questo? da un lato sicuramente ci ha come dire fatto riflettere sull'esigenza di ripensare queste soglie di povertà perché sono molto molto basse dall'altro lato però emerge fa emergere un aspetto molto interessante che l'esperienza della povertà alimentare non è un'esperienza di grave indigenza non coinvolge solo la grave indigenza ma coinvolge anche un'esperienza diciamo di famiglie cosiddetti lavoratori poveri insomma i nuovi profili della povertà che non si rivolgerono in vero o mai a un ente di assistenza perché è estremamente stigmatizzante lo è per chi è costretto ad andarci figuriamoci per chi può in qualche modo ridimensionare la propria spesa alimentare allo stesso tempo però è un fenomeno e quindi se travalica i confini della povertà o delle soglie della povertà così come definite interroga le politiche perché questi non sono target delle politiche di contrasto perché le politiche di contrasto e qui la cosa interessante oggi in vigore fondamentalmente se escludiamo la parte relativa ai cosiddetti buoni spesa o ai contributi economici sono dirette a chi vive in una condizione di povertà assoluta cioè le aiuti alimentari che danno le associazioni sul territorio si rivolgono a una fascia di popolazione in condizioni di estremo disagio quindi troviamo proprio come dire una sorta di come dire di asincronia delle politiche e di asimmetria delle politiche anzi dire meglio dove da un lato il fenomeno è la risposta al fenomeno si rivolge esclusivamente alla grave indigenza e dove invece il fenomeno travalica i confini della grave indigenza coinvolgendo anche esperienze di famiglie che magari fino all'anno scorso andavano anche in vacanza ad esempio quindi la domanda è allora come si come si aiutano queste persone e c'è una domanda in più che fa il rapporto è corretto o è efficace anzi più che corretto perché diciamo l'aiuto alimentare è un'esperienza come dire sono risposte assolutamente necessarie sono risposte che anzi alleviano nel breve periodo la condizione di indigenza delle famiglie ma non la risolvono allora la domanda è per tutte queste persone che vivono in condizioni di povertà alimentare che cosa possiamo fare di meglio e qui un po' l'interrogativo chiama in causa sia le politiche quindi come differenziarle diversificarle quindi come ricomporre questi frammenti ma all'interno di questi frammenti definire anche figure diverse interventi diversi e dall'altro lato come invece intervenire ad esempio sulle determinanti del fenomeno che abbiamo mostrato non sono ad esempio soltanto economiche la povertà alimentare non è definita esclusivamente dalla mancanza di reddito sicuramente la mancanza di reddito è come dire una delle cause profonde della povertà ma a parità di reddito la possibilità di convertire questo reddito in quello che noi chiamiamo benessere alimentare varia e ci sono altre condizioni ambientali individuali di genere che contano quindi le risposte a nostro avviso non dovrebbero indirizzarsi solo sull'aiuto materiale magari nel brevissimo termine ma nel medio termine dovrebbero essere in grado in qualche modo di attaccare fra virgolette anche le determinanti non economiche e quindi di riuscire in qualche modo a ricomporre come dire questa esperienza e a darle anche una possibilità di via riuscita che ripeto si è economica ma non soltanto economica e che può trovare nel territorio della comunità risposte molto forti che possono complementarsi anche con gli aiuti materiali ad esempio insomma quello che ci sta raccontando è che anche se un concetto apparentemente semplice non possiamo avere correre il rischio di adagiarci sulla semplicità di un concetto invece purtroppo dobbiamo fare i conti con la complessità e affrontare la questione come qualcosa di complesso stratificato diversificato anche sorprendente esatto tra l'altro consideriamo anche che il cibo è la come dire la componente del nostro bilancio familiare più flessibile nel senso che poi appunto le esperienze di povertà di queste famiglie come ci siamo detti all'inizio sono molteplici però la fit è meno flessibile del cibo perché la fit non si comprime non si riduce di qualità non si sostituisce il cibo sì quindi anche in un'esperienza di povertà a 360 gradi e dove c'è ad esempio una povertà di tipo abitativo di tipo lavorativo o d'altro sicuramente c'è un'esperienza di povertà alimentare perché il cibo è la componente che viene sacrificata il prima possibile addirittura le certe ricerche mostrano come gli aspetti sociali sono ancora sono sacrificati ancora prima ancora prima che l'esperienza di povertà si concretizzi ma quando ci sono le avvisaglie di una situazione diciamo difficile subito si sacrifica quello che si considera superfluo ovvero la socialità che invece non è superfluo anzi la ricerca a me ha mostrato che l'esclusione sociale è come dire è dannosa quanto la povertà economica non so come dire e definisce la povertà in termini più ampi insieme alla povertà economica esatto e poi volendo può anche attirare un circolo vizioso in cui aumentando l'esclusione si può andare incontro ad altre difficoltà insomma come dicevo un argomento veramente complesso non riusciamo ad affrontarlo tutto qui il rapporto lo si può leggere immagino andando sul sito di Action Aid Italia andare un po' più nel dettaglio grazie mille davvero Roberto Sensi per questo racconto molto puntuale chiaro sulla situazione grazie buona giornata grazie a voi arrivederci grazie a voi